Ragazzi purtroppo non si sente ma Valerio sto dicendo al Conte, Conte non mi fare morire Nunzi, ho scelto. Ah no, Valerio che è un mio amico ormai, ho scelto, è un mio amico, ha cercato di spiegarti a te perché bisogna tenere il condizionatore accesso e io sono d'accordo su ogni impunto, bravo Valerio. Certo, innanzitutto già il video l'ho visto e già guarda, ci sono calcoli qua che non finiscono mai, grazie Valerio, però devo smontare tutto quello che hai scelto. Allora, innanzitutto 0,15 centesimi all'ora per 24 ore fa 3,60 euro al giorno, 3,60 euro li consideriamo per 30 giorni perché qua c'è sempre caldo, sono 108 euro al mese, quindi già costo 108 euro, ci aggiungiamo l'IVA del 22% e arriviamo a 131,76 se la matematica non è un'opinione, queste fatte solo per le stesse. Poi ti voglio dire, casa mia non è una sala operatoria e quindi proprio batteri e cose, non ce ne sta. Ma ci sono io per lo che ho bisogno. Se svengo mi soffia, mi strabello tutto svegliato e mi soffia e poi, scusami, medicinali non ne compro perché da morto di fame ho l'essenzione e quindi manco quello. Acqua e bibite, ma quando scendo da Clarissa se mi parli da la sua bottiglia, poi ci dico dammi una coca cola, dammi qualcosa e mi rialmo. Ma che c'entra? Vestiti non ne devo lavare perché siccome ne ho pochi o quasi non ne ho, io ora mi sono messo la t-shirt per fare il video, ma io sto bello ad amitico a casa, ad amitico. Ad amitico, scelto. E un'altra cosa, col sudore, caro Valerio, io dimagrisco, lo vedi che c'è un po' di pancetta, diventa una silhouette, un fotomodello, un indossatore. Valerio, io non c'ho speranze, non c'ho speranze. E comunque, io ti ringrazio Valerio, ma se avete fatto il gatto e la volpe con Nunzio, mi dispiace perché questa è tutta opera del signor Nunzio. E allora io stasera chiamo il tecnico. No, io a Valerio ho detto, Valerio aiutami tu che poi ti do 10-20 euro. No, 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 sì 10-20 euro. Allora, io stasera chiamo il tecnico, li faccio smontare, me li vendo e questi sono i calcoli. Ciao Valerio, grazie di tutto, ma non possiamo fare nulla. E a te poi, appena chiudiamo questo video, ti ha messo un pefetto. Provo, ti ha messo un pefetto. Valerio non ce l'hai fatto, proprio. No, completamente, ciao, ragazzi. No, vabbè. No, vabbè, ma chi sono i cosi infiorati? No, vabbè. E state sempre. No, vabbè.